bello ragazzi e ben ritornati sul mio canale in questo nuovo vlog annuncio che era dalla vita che non facevo un vlog annuncio per il semplice fatto che erano diventati inutili erano inutili perché non potevo ogni singola live dover fare un vlog annuncio in cui annunciavo che ci sarebbe stata una live quindi ero eliminati ma ma vi piace così con il microfono vi piace ma ma ragazzi cosa qua è una live speciale speciale perché perché domani finalmente martedì 20 esce si otto finalmente potremo solcare mari andare a devastare gente dar fuoco ai villaggi stuprare vecchi non lo so qualcosa insomma potremmo fatto quello che vogliamo perché finalmente esce il gioco che tanto stavamo attendendo tutti si otis e come promesso ragazzi vi ci porterò una live una live ma non la live solta da un'ora e mezza una live da ben quattro ore ragazzi quindi si ritorna al solito durata le live che era ai tempi indietro si parla dell'epoca preistorica con rainbow six age in cui le live si partiva dalle otto e mezza fino alle dici e mezza questa volta all'incirca quindi durerà anche un pochettino di più perché una volta era tre ore questa va di quattro ore circa quindi la live ragazzi sarà dalle ore 19 dalle sette fino alle undici insomma quello che è fino fino a che ne abbiamo voglia quindi la quindi ragazzi mi raccomando domani martedì 20 live dalle ore 19 su sea of tips ma come vi avevo accennato quindi nel post che ho fatto su youtube di questa live c'è anche una sorpresina per voi in molti mi avete chiesto mattex ma perché se io prendo sea of tips o anche della beta posso giocare con te e io giustamente in live non potevo portarlo in quel momento perché non c'era tempo di poter giocare con voi comunque non si eravamo ancora organizzati ma ragazzi in questa live sì perché come si dividerà la live si dividerà in due parti una prima parte vedrete la solita ciurma nonché ormai pensionati dell'acli quello che potrebbe essere insomma il gruppo di vecchietti la ciurma più temuta dai sette nonché anche otto o nove mari dipende dai punti di vista ci vedrete alle prese quindi col nuovo con questa versione finale di sea of tips in cui magari vedremo anche un po cos'hanno inserito di nuovo cos'è cambiato insomma vedete e la seconda parte invece ragazzi in cui giocherò con voi giocheremo anzi con voi quindi magari quando non so adesso da vedere quando durante la live insomma deciderò selezionerò chi di voi è in live ragazzi quindi mi raccomando venite in live perché sarà lì io non c'ho non c'ho un come dire dei nomi già prestabiliti di chi scegliere io vedrò lì in live chi è in columento in chat vedrò chi scegliere e di far giocare con noi naturalmente dovete avere sea of tips se non ci avete sea of tips la cosa è il quanto inutile comunque quindi selezionerò alcuni di voi per giocare insieme a noi adesso vedremo quanti alla volta se uno due tre quattro sennò vi do il video il link di obs fate voi la live io vado da un'altra parte insomma adesso vedremo ragazzi quanti farli giocare contemporaneamente e giocherete con noi quindi ci sarà divertirsi quindi anche una live dedicata a voi iscritti per giocare insieme a voi per un gioco che merita per le persone come voi che meritano meritano di averla l'attenzione la mia attenzione è giusto di essere premiate ragazzi perché siete veramente importanti per me quindi lo faccio per voi come direbbe qualcuno e quindi ragazzi che dire live domani dalle ore 19 su sea of tips non mancate perché come sapete ci sarà domani da ridere e anzi anche una cortesia ragazzi quando sarete in live vi prego di condividere anche gli amici così da darmi una mano a far crescere il canale come sempre niente niente di che solite robe e quindi niente ragazzi ci vediamo domani sera quindi bella ragazzi e bella lì mi raccomando io ho paura di me stesso bella ragazzi